Benvenuti alla resegna stampa di sabato 31 ottobre 2020, siete su Fanno TV canale 17, ben ritrovati cari telespettatori, eccoci qua pronti per sfogliare i giornali che troverete come sempre in edicola, in versione cartacea, noi abbiamo selezionato come sempre per voi le pagine più, secondo noi più interessanti, più importanti di questo giorno. Allora iniziamo dal Santo, vediamolo subito con la grafica, oggi è Santa Lucilla di Roma, il sole sorgerà, anzi è sorto alle 6.47, tramonterà alle 17.02, il tempo. Cielo sereno poco nuvoloso, temperature stazionarie, venti di brezza leggera, fenomeni particolari, sì, foschie o locali banchi di nebbia, nottetempo e allevar del sole nelle vallate lungo il litorale. Domenica il primo di novembre, domani si apre con il cielo sereno poco nuvoloso, anche domani attenzione alle foschie e locali banchi di nebbia, così come, andiamo a vederlo, lunedì 2 novembre con cielo sereno poco nuvoloso, anche qui avremo insomma un po' di nebbia, ma tutto sommato il tempo resterà buono, discreto per i prossimi giorni. Andiamo subito sui giornali, andiamo a vedere il titolo d'apertura del resto del Carlino di Pesaro, caccia agli hotel per le quarantene, si cercano strutture da destinare ai pazienti dimessi ancora positivi, 30 euro a camera, 55 con il pasto. A centropagina scuole superiori, tutti a casa, la regione didattica a distanza al 100%. Il mattone con i muratori che vanno a ruba, si cercano, le imprese edili cercano, sono alla ricerca, anzi disperata, di muratori, di lavoratori. E poi il personaggio che trova spazio sul Carlino di questa mattina si svela a Charlotte, la Miracle Tunes, nipote del pittore Mario Logli, e poi sulla pagina, sempre principale di Pesaro, di spalla la cavalcata del virus, esplosione dei ricoveri, poi ragazzini senza mascherine, affano, scattano multe da 400 euro. Di taglio basso Halloween scatta l'allerta anticontagio, summit in prefettura per scongiurare il rischio di assembramenti pericolosi. Basket invece, l'allenatore Repegia dice, vince chi arriva più lucido. Il coach verso la sfida contro Cremona, guai muscolari, ansia per Filopovic. Mentre il Corriere Adriatico, anche qui l'apertura, non festeggiate Halloween, l'appello del prefetto e anche dei sindaci. Superiori tutti i giorni a casa. Acquaroli firma l'ordinanza per la scuola a distanza al 100%, sarà in vigore da martedì per licei e istituti. La regione pensa anche ad una stretta sullo sport, nel mirino gli allenamenti. Ieri sei morti, l'indice RT a 1,47. Poi più sotto, in breve, medici in trincea Marche Nord, un altro. Decesso a Pesaro, devastano la classe, gettando banchi e sede dalla finestra. E poi protezione civile fuori dai cimiteri per evitare le resse. Siamo alla vigilia di tutti i Santi del 2 di novembre. Intanto da Fano, la variante di Gimarra libera Fano dal traffico. Migliore soluzione viaria tra quattro opzioni, ma conflitto aperto del Movimento 5 Stelle con il Vice Sindaco. Qui ancora più in basso, il nuovo rettore con l'Università. Siamo Urbino, sviluppo e crescita sociale e culturale. Andiamo sulla pagina del Corriere Adriatico. Acquaroli, abbiamo visto, chiude tutte le scuole superiori. Mette nel mirino anche gli allenamenti, quindi lo sport. Lezione a distanza da martedì, c'è dunque l'ordinanza. Da martedì tutte le scuole superiori delle Marche chiudono i portoni. Gli studenti saranno in modalità cosiddetta DAD, che sta per didattica a distanza. Appunto, la decisione è arrivata ieri, l'ordinanza sarà firmata oggi. Ma il governatore Acquaroli è deciso a dare un ulteriore giro di vite anche allo sport, andando ad incidere sugli allenamenti. Crescono i contagi, dice Acquaroli, e dunque urgono misure. Intanto gli studenti positivi nelle Marche sono 555, oltre a 5.800 che sono in quarantena. I casi sono raddoppiati in sette giorni. Più di 300 ricoveri per Covid, l'RT stimato per le Marche vicino a 1,5, ma per Ministero e Istituto Superiore di Sanità non stiamo, non siamo. Tra le regioni a rischio, ieri 524 nuovi positivi e 6 morti. Aumentano i pazienti in area semi-intensiva. Questo è il Carlino, invece il virus continua la sua galoppata d'autunno. I ricoverati hanno sfondato quota 300. Anche qui per l'Istituto Superiore di Sanità siamo tra le regioni a rischio moderato, ma i numeri preoccupano, va meglio in provincia. Allora, Peso Urbino è stata tra le prime zone rosse italiane. In questa fase però resta un territorio virtuoso nel quadro marchigiano. Probabilmente perché, a differenza di quanto accade nel sud delle Marche, riusciamo ancora ad eseguire un'efficace attività di tracciamento e di monitoraggio. C'è il rischio di mandare in crisi l'ospedale Marche Nord, quello a Pesaro, dove un terzo dei letti di terapia intensiva è già occupato, ma è occupato da pazienti che sono prevenienti soprattutto dal sud delle Marche. E Marche Nord, a Marche Nord si sono immunizzati, dice il professor Paolo Taruschio, 36 anni da primario, che analizza questo boom di contagi rispetto al pesarese ad Ancona. Non dobbiamo farci prendere dal panico, dice, e non rinunciare a vivere. Insomma, è un po' come stare in guerra, dice. Dobbiamo essere consapevoli che sarà lunga, con ogni probabilità, almeno fino alla prossima primavera inoltrata, ma non dobbiamo farci prendere dal panico né rinunciare a vivere. Lo dice il 67enne Paolo Taruschio, 36 anni da primario, la matta dei quali alla guida di anestesia e rianimazione all'ospedale Profili di Fabriano, e che mette in guardia come questa seconda ondata Covid non si preannunci affatto breve, lanciando comunque qualche segnale di ottimismo su come si stia riuscendo a curare meglio comunque la patologia rispetto al tremendo primo tempo di febbraio-marzo. Il vero lockdown, ecco, facciamo attenzione a quello che sto leggendo, lo dice il professore, ma ne siamo convinti, ma non riusciamo a metterla in pratica. Allora, il vero lockdown deve essere quello delle singole persone, cioè ciascuno di noi che non devono togliersi tutto, ma imparare a convivere con questo virus, a proteggersi con tutte le accortezze del caso. Mascherina, lavarsi le mani, anche areare il più possibile i luoghi chiusi, aprire dunque le finestre, perché il grande nemico del Covid è l'aria aperta in cui si disperde. Ancora si vedono automobili con dentro persone, anche piccole automobili con dentro tre persone, le vedo io ancora tutti i giorni, senza mascherina, come se niente fosse, finestrini tutti sigillati. Ecco, queste sono le cose peggiori, questo è quello che fa andare in tilt tutto quanto. Queste persone che come se niente fosse fanno finta che non esista nulla. Dentro la macchina, con il finestrino tutto su, tutti senza mascherina, in tre, li ho visti anche ieri, tutti giovani, ma non per puntare il dito sui giovani, perché è così. Forse si sentono più forti, si sentono più supereroi. E poi un'altra cosa, per quanto riguarda il lockdown, cerchiamo di fare quello personale. Ha ragione il professore, perché? Perché stanno pensando già di chiudere tutto quanto la prossima settimana. Se i dati sono questi, vedrete che la prossima settimana daranno forse alle regioni l'indicazione di fare questi lockdown, non, come dire, regionalizzati, locali, ma localizzati. Però l'andamento e l'andazzo sarà questo. Però, esempio, oggi a Fano c'è il mercato. Se uno ha necessità di andare a fare la spesa, perché non riesce a fare a meno, perché gli serve il paio di mutande, se no non si campa, e allora ci va. Uno ci va, il più robusto. La spesa, stessa cosa, il più robusto della famiglia, prende e va a fare la spesa. Se uno deve andare a fare un giro, non ci va, si sta a casa, non ci si può permettere adesso di fare le passeggiate, né a girovagare per i centri commerciali, tanto per comprare nulla. Poi vai a vedere il carrello, tutte cose di cui si può fare a meno. Ecco, questo per dire, siamo in un momento come questo. Quando il professor Paolo Taruschio dice bisogna fare il lockdown delle singole persone, significa questo. Farlo, ma farlo con intelligenza. Non è il caso di incontrare persone. Bisogna stare separati, distanziati, aprire le finestre, tirar giù i finestrini, fare vita, sembra brutto dirlo, vita asociale, per conto proprio. Grande hotel, invece, quarantena. C'è anche un altro problema adesso. La Regione cerca alberghi. L'assessore regionale alla protezione civile, Stefano Guzzi, dice, abbiamo chiesto la disponibilità di una struttura alberghiera per ogni area vasta. Ecco, gli alberghi, una volta individuati, dice Guzzi, saranno pagati indipendentemente poi dalle camere realmente occupate. Il contratto sarà stipulato con una sola struttura per area vasta, la seconda scatterà solo in caso di esaurimento dei posti della prima. Chiaramente, perché si cercano questi alberghi? Perché? Perché ci sono persone che poi non possono, magari sono positivi, non possono stare dentro casa, perché la casa è piccola, perché gli altri vanno preservati, vanno salvaguardati, il resto della famiglia, quindi non è che possono vivere dentro lo sgabuzzino. E allora ci vuole, o in garage, ci vuole una stanza, una situazione diversa da quella familiare, e allora ecco che vengono incontro questi alberghi. per accogliere i pazienti Covid ci sono spazi nell'ex medicina, dice il neoconsigliere regionale Giacomo Rossi, che insieme al sindaco di Fossombrone, Gabriele Bonci, lanciano questa proposta all'Asur, valutare l'utilizzo dei reparti vuoti dell'ospedale di Fossombrone, nella fattispecie quelli dell'ex medicina, nel caso in cui la struttura torni di nuovo ad essere occupata per i posti acuti Covid, come nella prima ondata dell'emergenza sanitaria. E questa è la proposta. Sempre dai giornali, questa mattina c'è la notizia che a Soria, un quartiere di Pesaro, una farmacia comunale cambia pelle, si fanno screening e anche esami, inaugurata la nuova sede appunto della comunale, vedete il sindaco, il presidente di Aspes, poi dipendente della farmacia, si sposta di poco, ma cambiano di molto i servizi offerti da questa struttura. Pieri dell'Aspes dice siamo pronti a fare i test sierologici se la regione li offre gratis ad alcune fasce di popolazione. Poi, la pagina di Fano, un titolo che a me piace tanto, sono contento, ma purtroppo so che conterà poco, il Covid fa il funerale alla festa di Halloween, addio, almeno per quest'anno, alla tradizione del dolcetto e scherzetto. bimbi e famiglie dovranno stare a casa, norme da rispettare anche nei cimiteri. Ci sono accortezze da seguire per evitare la confusione del coronavirus. Ora, l'avete sentito sul nostro telegiornale, nel nostro telegiornale anche il sindaco di Fano, ieri Massimo Sere, così il prefetto di Pesurbino Vittorio Lapolla, tutti i sindaci ad affrettarsi a dire c'è Allung, quindi cerchiamo di stare a casa, non facciamo assembramenti, non lasciamo scorazzare i figli come se niente fosse. Ora, a giudicare però da quello che si vede in giro anche sulle foto di queste mamme orgogliosissime, di questi bambini, di queste bambine vestite da strega, vestite da fantasmi, con il sangue che esce dalla bocca, bellissime queste foto di queste bambine, di questi pargoletti, tutti vestiti così tenebrosi, una gioia vederli. Ecco, ebbene, a giudicare da queste foto postate da queste mamme artiste e quindi bisognerà vedere oggi, a giudicare da queste foto, pare che insomma comunque qualcuno il suo dolcetto scherzetto lo farà lo stesso. Allora, intanto ecco, vedete, minori senza mascherina, scatta il provvedimento, dove scatta? Al Pincio. Erano al Pincio di Fano, privi di mascherine. Sono stati identificati questi giovani, accompagnati in commissariato e i genitori, perché chiaramente loro non hanno i soldi in tasca per poter pagare questa multa, i genitori pagheranno 400 euro. E questa è la, come dire, l'azione che è stata messa in campo dal commissariato di Fano e che è giusta, giustissima, è sacrosanta. Quindi si moltiplicano in quella zona del Pincio e non solo le segnalazioni dei fanesi su questi gruppi di ragazzini che dopo la scuola si incontrano, stanno lì incuranti dei divieti di assembramento, ragazzi che non ne vogliono sapere di mettere la mascherina e purtroppo è così. Quindi, intanto i genitori e io pago. Gimarra, unica scelta ora sostenibile, siamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, per liberare tutta la città dal traffico. L'alternativa della complanare all'autostrada fino a Trebbiantico è incompatibile con una variante alla statale. col bypass da Belgato il traffico dalla superstrada è a 14 fuori dall'abitato, in futuro anche da sud. E poi al Pincio, ragazzino, con un coltello di 15 centimetri denunciato alla Procura per i minori e altri tre multati invece perché erano senza mascherina. Tosa per esenzione sino alla fine dell'anno, deroghe per gli elementi divisori, respinte con una giustificazione tecnica le richieste dei Cinque Stelle di prorogare l'aiuto fino ad aprile o a settembre. E poi più controlli con lockdown, meno sicurezza in centro, Confesercenti chiede una risposta per i furti nei negozi. Seri ritiri le deleghe invece al vice sindaco Fanesi, siamo sempre sul Carlino, a richiederlo ai consiglieri comunali del Cinque Stelle dopo la sua presa di posizione a difesa della variante di Gimarra. L'invito, l'amministrazione usi 20 milioni per invertire la rotta per lo sviluppo di Fano. Poi andiamo sulla pagina invece di Pesaro del Corriere, cimiteri. Allora, la questione dei cimiteri, stiamo alla vigilia, già comincia ad esserci un via vai di persone, di parenti, di gente che va a trovare il caro estinto per evitare il rischio ressa, protezione civile e personale, Aspes, nei cimiteri di Pesaro. Da oggi fino a lunedì la vigilanza è stata rafforzata agli ingressi. A Monbaroccio non più di 50 persone all'interno alla volta, insomma. Poi si sono... Andiamo... No, sull'altra pagina. Eccolo qua. Il Carlino di Pesaro, Lungomare, di Levante, albergatore all'attacco, lettera al sindaco, servono soluzioni serie, il Comune faccia la sua parte, altrimenti siamo pronti a organizzare una nostra rappresentanza politica. Nella foto vedete Oliva, Fabrizio Oliva, che è il presidente dell'Associazione Pesarese degli Albergatori, che abbiamo intervistato anche noi ieri nel telegiornale. Boom dell'edilizia. Dicevamo di questa ricerca spasmodica di questa figura dei muratori, muratori a ruba, le imprese li cercano praticamente ovunque. Il super bonus, infatti, ha messo le ali al lavoro e ne servirebbero almeno 100 subito. Sono 2.000 quelli attuali. Binda, della Scuola Edile, dice facciamo corsi professionali, ma gli apprendisti sono solo il 4,5%. Ora, capite che, a meno che non tornino a lavorare e fare questo mestiere, gente che l'ha già fatto, improvvisare 100 persone che non l'hanno, che, insomma, boh, non so quanto sia, soprattutto se devono fare le case, devono sistemarle, devono rimetterle a posto. Ecco, però, corso post diploma per la birra e percorsi per nuove professioni, approvato all'unanimità il piano provinciale della programmazione scolastica 2021-2022, mentre da Urbino saremo il motore dello sviluppo, il titolo d'apertura e della crescita sociale e culturale, l'impegno per Urbino e il territorio del nuovo rettore dell'università. Sarà difficile migliorare i risultati di Stocchi, mentre, per quanto riguarda Urbino, il lockdown, giovedì sera in piazza agenti e pochi studenti. E sotto, otto fotografi e il dialogo di De Carlo con la città, da oggi al 28 febbraio, Palazzo Ducale, le opere di affermati docenti dell'Isia. Mentre la pagina di Urbino del Carlino, la città si arricchisce di una nuova biblioteca. L'università ha inaugurato ieri la struttura nell'ex carcere di San Girolamo, un recupero ancora da completare, atteso da decenni. Valcesano, riqualificati la piazza del Castello di San Costanzio, l'intero borgo del paese, approvati lavori per 300 mila euro che saranno realizzati in primavera per l'estate. E poi una ragazza che si chiude in camera, tratta in salvo dai carabinieri, l'allarme della coinquilina, lei si è procurata anche delle ferite. L'impianto fotovoltaico di San Lorenzo in campo a terra sarà un danno. Gruppo Zero appoggia l'opposizione del sindaco Laurentino. Da Senigallia, ristoranti, il delivery per restare a galle. C'è chi si inventa pure la raccolta punti. la lampara dopo dieci consegne fa scattare la pizza omaggio, gli affari stanno andando bene, mentre io continuo a ripetere che tutte queste parole in inglese, nei titoli, non... cioè, allontanano il lettore, lo allontanano. Lo volete capire o no? Allora, parlare di delivery, parlare di asporto, non è più facile asporto, non si capisce meglio. Uno che legge un giornale, perché dobbiamo complicargli la vita che già è complicata di per sé? Questi termini sempre inglesi che non servono a niente. Oh my God. Allora, tre ragazzi si azzuffano alla rocca e questa è l'altra notizia invece da Senigallia. Uno prende una bottiglia in testa, la rissa si è accesa ieri pomeriggio all'arrivo dei carabinieri. I giovani si erano già dileguati, mentre sempre da Senigallia i ladri entrano con i padroni in casa, un'escalation di furti nell'Interland, rubati oro e denaro, forse un'unica banda. Vedete come siamo alla vigilia delle festività, perché comunque il Natale arriverà, i ladri sono ripartiti alla grande e quindi vedete quanti furti che stanno arrivando, ne stanno arrivando tanti, anche in previsione di un lockdown. I conti li fanno anche loro, i ladri. I ladri sono persone come noi che hanno una vita un po' sballata, ma ce ne fanno conti come li facciamo noi, pensano al Natale, pensano al lockdown, pensano come fare a mantenersi in vita e quindi a mantenere la famiglia e quindi vedete come questo è il periodo in cui devono andare a lavorare, tra virgolette. Cuttone, siamo allo sport, sono le 7.20 per chi ci segue in diretta. Allora, Cuttone tira sul Fano, il gioco c'è, merita di più. L'ex tecnico Granata, Ravenna una partita davvero delicata per tutti. Poi, andiamo avanti, eccola qua, l'altra pagina dello sport, siamo sul Carlino, sempre per quanto riguarda Granata, c'è qualche rischio per Alessandrini, l'allenatore che chiaramente deve vincere, deve vincere. Siamo tutti dalla parte di Alessandrini, dicono i giocatori, il capitano Carpani, alla vigilia di questa delicata partita di Ravenna, situazione delicata per colpa nostra, noi seguiamo il nostro tecnico. Mentre sulla pagina di sport del Corriere, la vis di Galderisi deve solo vincere, domani al Benelli arriva un gubbio da battere per far rifiatare la classifica, anche il mister si gioca tanto, dopo gli ultimi risultati al di sotto delle attese, vedete come le panchine sono così, cominciano ad essere un po' traballanti, se quella del Fano sia quella del Vispesero, mancherà Lazzare, che ha una distorsione alla caviglia, oltre ad Eramo è tessiore con delle noie a livello muscolare. Per quanto riguarda invece il basket, guardate questa fotografia del coach Arepegia, che dice non siamo al top, ma daremo tutto. Il coach della VL è la sfida di domani con Cremona, siamo abbastanza dice corti, ma andiamo avanti e soprattutto lottiamo. Questa era l'ultima pagina della nostra rassegna stampa. Vedo che c'è ancora un po' di tempo, oggi sono andato abbastanza spedito, allora riandiamo a vedere subito per coloro che si sono magari messi davanti al televisore o hanno aperto il telefonino adesso, allora diamo di nuovo uno sguardo alle due pagine principali, visto che ci abbiamo ancora qualche minuto. Allora, la notizia d'apertura è la caccia agli hotel per le quarantene, l'abbiamo visto, si cercano strutture da destinare ai pazienti dimessi ancora positivi, 30 euro a camera, 55 con il pasto. Poi la protesta ad Ancona e un incontro in comune a Pesaro. Rialzate il sipario, spettacoli, battaglia contro le chiusure. E poi le parole del sindaco di Pesaro Ricci, altre restrizioni in arrivo. A centro pagina però, ed è questa la notizia che riguarda, sicuramente la notizia più importante per quanto riguarda le marche, è che Acquaroli ha firmato, anzi lo farà oggi, questa mattina ha firmato per chiudere le scuole superiori e quindi mandare tutti gli studenti a casa con la didattica a distanza. Poi muratori, abbiamo visto poco fa, i muratori vanno a ruba, le imprese d'Ili sono a disperata ricerca di lavoratori, poi la cavalcata del virus con l'esplosione dei ricoveri e poi i ragazzini senza mascherine a Fano dove sono stati fermati, bloccati e adesso i genitori dovranno pagare 400 euro di multa. I controlli oggi è Halloween, scatta l'allerta anticontagio, summit in prefettura per scongiurare il rischio di assembramenti pericolosi. Mentre il Corriere Adriatico, lo andiamo a vedere di nuovo insieme, allora anche qui vedete, superiore tutti i giorni a casa. Acquaroli firma l'ordinanza, la scuola a distanza al 100%, sarà in vigore da martedì, per il liceo e gli istituti. La Regione pensa anche ad una stretta sullo sport e questo lo vedremo tra qualche giorno. Nel Mirino ci sono gli allenamenti, ieri ci sono stati sei morti, l'indice RT a 1,47%, ma abbiamo già detto nelle Marche che la situazione è ancora sotto controllo, soprattutto sul fronte ospedaliero, sul fronte dei ricoveri. Abbiamo detto poco fa che a Marche Nord, l'ospedale di Pesero, sì, la terapia intensiva è occupata, ma è occupata da persone che arrivano dal sud delle Marche, quindi ancora si riesce un po' a gestire tutto quanto. Mentre andiamo a vedere la pagina interna del Corriere Adriatico. I casi raddoppiati in sette giorni, titola più di 300 ricoveri per Covid, l'RT stimato per le Marche vicino all'1,5, ma per il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità, vedete, non siamo tra le Regioni a rischio. Quindi ancora possiamo fare bene, possiamo fare del nostro. Allora, pochi minuti ancora, per dire soltanto l'invito, visto che sono giorni, se vogliamo, anche di festa, perché il primo si festeggia tutti i Santi, poi c'è la ricorrenza dei defunti, quindi la gente uscirà di casa, c'è di andare al cimitero a visitare i parenti, quant'altro, ecco i cari. Quindi mi raccomando, il lockdown, come dice il professore, lo andiamo a rivedere velocemente, che è un'intervista interessante. Ecco, come dice il professor Paolo Taruschio, andiamo sul giornale, 36 anni da primario, che è alla guida di anestesia e rianimazione all'ospedale profilio di Fabriano, mette in guardia, su come questa ondata ovviamente si pronuncia, comunque lunga, soprattutto lunga, ecco, soprattutto lunga, però quello che possiamo fare è questo, il vero lockdown deve essere quello delle singole persone, che non devono togliersi tutto, ma imparare a convivere con questo virus e a proteggersi con tutte le accortezze del caso. Penso alla mascherina, lavarsi le mani, anche ad areare il più possibile i luoghi chiusi, perché il più grande nemico del Covid è l'aria aperta in cui si disperde. Il più grande nemico del Covid è l'aria aperta in cui si disperde. Allora, con questi compitini da fare a casa, noi ci salutiamo qui, ci vediamo lunedì mattina alle 7, e come sempre vi ricordo l'appuntamento delle 20 e 30 con 7 per occhio, che è il magazine che racchiude un po' tutte le notizie più importanti di questa settimana. Va da sé, e questo ve lo dico sempre, che se ci sono notizie importanti dell'ultima ora, vengono inserite all'interno del magazine, quindi noi siamo sempre operativi 24 ore su 24. L'augurio di trascorrere un buon fine settimana e arrivederci.